Siamo sempre in ventesimo municipio e una domanda anche all'assessore Giuseppe Mocci che si occupa di urbanistica e anche i parcheggi, ci hanno parlato un po' dei parcheggi e dell'ambiente. Io sono l'assessore, come diceva la signora, all'urbanistica, patrimonio, parcheggi e grandi parchi. Per quanto riguarda la domanda che ha fatto sui parcheggi, noi stiamo seguendo il piano parcheggi con l'emergenza traffico e stiamo lavorando per realizzare dei parcheggi che sono quelli interrati. E proprio per questa domanda, diciamo molto pertinenza allo stato attuale, proprio oggi viene firmata una convenzione nel municipio dove realizzeremo, tra qualche mese inizieranno i lavori a Largo Vigna Stelluti, per la realizzazione di un parcheggio interrato di 130 posti auto, di cui un terzo sono rotazionali e due terzi verranno venduti ai privati. Comunque questa è una procedura che serve, è utile per togliere le macchine dalla superficie e portarle, diciamo, sottoterra. Comunque voi di verde qui ce ne avete tanto, però? Sì, noi di verde ce ne abbiamo tanto, la mia delica è sui grandi parchi, come diceva anche prima il Presidente, noi abbiamo uno dei municipi più estesi, di cui il 50% del municipio è la parte verde. Noi abbiamo tre parchi importanti in questo municipio, il parco di Veglio che è il 50% del parco stesso dove racchiude nove comuni, il 50% è situato nel ventesimo municipio. Entra a Cuneo dalla parte più periferica, che è quella di Cesano, e arriva addirittura a ridosso di Corso Francia. Un altro parco importante, sempre regionale, è il parco di Due Laghi, dove va a prendere tutta la parte nord del municipio, che è la parte sempre di Cesano stessa, e la parte di Martignano. Il parco di Due Laghi che comprende Martignano e il lago di Bracciano, e non tutti sanno che il nostro municipio arriva fino a una parte del lago di Martignano, dove il Comune di Roma è proprietario, e addirittura una parte del lago di Bracciano. Noi siamo proprietari della parte che va tra Anguillara e Trevignano. Quindi potete immaginare l'importanza anche di questo parco. Come abbiamo un altro parco importante, che è quello dell'Insugherata, che percorrendo la Cassia verso Roma lo troviamo sulla parte destra, che fa da cuscinetto tra Tomba di Nerone e il quartiere di Montemario. Quindi è un municipio verde molto importante, però devo dire che difficilmente riusciamo a gestirlo, proprio per la mancanza di risorse, purtroppo, da parte dell'amministrazione capitolina. Ma non è un problema questo qui attuale, è un problema che c'è sempre stato. Come ha detto prima il Presidente, siamo un po' più al verde, per cui servono un po' più di fondi per sistemare. Sì, noi chiediamo fondi, ma chiediamo anche maggiori deleghe da parte del Comune di Roma. Infatti quello che speriamo è che col decentramento delle amministrazioni, quindi con maggiori poteri che vengono dati dal Comune ai municipi, speriamo di avere queste deleghe anche in materie importanti, come quella dell'ambiente e dell'urbanistica, che sono fondamentali per gestire il territorio.